Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani e oggi faremo una lettura angelica valida a partire da lunedì 9 gennaio 2023 al 16 gennaio 2023. Bene, suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C, quindi vi consiglio durante la preghiera di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele e all'intera coscienza micaelica qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potreste anche scegliere più di un gruppo, va bene? Iniziamo con la preghiera di protezione. Per connetterci con le frequenze degli angeli utilizzeremo le carte del portale, abbiamo le carte delle fatte e dello scopo della vita, ok? Iniziamo, invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio Sé superiore, gli angeli custodi e il Sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono le letture angeliche. Invoco te, arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e l'intera coscienza micaelica e vi chiedo con amore vero, puro e sincero di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di radicare la nostra energia, vibrazioni e frequenze, di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida ed assistenza per me e per tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica, Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia ora, per sempre e per l'eternità. Ok, rinascita, gruppo A, molto interessante, coraggio, gruppo B, Gruppo C, riemergere nella grazia, quindi elevarci e innalzarci in uno stato di grazia. Vediamo ora le carte delle fate, ero da tanto che non le mischiavo, mi piacciono, cioè che non facevo letture con queste carte, mi piacciono tantissimo. Chiedi per ciò di cui tu hai bisogno per il gruppo A, ok, interessante, anche perché siamo nel nuovo anno, quindi è importante avere chiare le idee come iniziare questo nuovo ciclo. Vediamo un po', vediamo un po', amore, vita amorosa, quindi assolutamente la possibilità della nascita di un nuovo amore o della, diciamo, o il rinforzarsi di una relazione già esistente. Ok, gruppo C, anche qui, Beer Day, compleanno, che può avere diversi significati, lo vediamo adesso nello specifico, che cosa vogliono dire. Vediamo le carte, vediamo le carte dello scopo della vita, anche queste sono importanti, vediamo quali sono i tuoi talenti, cos'è meglio per te, vediamo il gruppo A, gruppo A sei un artista, ha a che vedere con l'arte, ok. Bambini nella vita nel gruppo B, ora vediamo, gruppo C, ambientalista, interessante, sono dei talenti, sono delle caratteristiche, no, che fanno parte della tua anima. Iniziamo col gruppo A, diciamo che è una rinascita per te, va bene, è una nuova, diciamo che sta nascendo dentro di te una nuova energia da portare nel mondo, sei motivato, sei motivata ad agire nella direzione giusta, ad agire e manifestare i tuoi obiettivi, i tuoi sogni. Sei molto, diciamo, hai proprio il fuoco dentro di te che ti sta portando ad emergere. C'è una rinascita per te, è in coincidenza col nuovo anno, ma è in coincidenza anche con tutti i semini che hai già piantato e ora è venuto il momento di raccogliere, è venuto il momento di ricevere, apriti a ricevere. Ma per fare questo, dice l'Arcangelo Michele, è anche importante riallineare le tue idee, capire esattamente cosa tu vuoi veramente, passo dopo passo, fare un piano, pianificare un piano di lavoro, va bene? E sapere esattamente cosa vuoi ricevere, in che tempistiche, quindi avere chiare anche le idee, in quanto tempo hai intenzione di realizzare quelli che sono i tuoi sogni e i tuoi obiettivi, chiedi aiuto agli angeli, chiedi aiuto al cielo, prega di più per la manifestazione, lavora per la manifestazione, fai più affermazioni positive, ringrazia per ciò che hai già, cioè devi focalizzare praticamente la tua energia, c'è questa nuova, ondata energetica a tuo favore, approfittane, cavalca l'onda e vedrai che tutto andrà per il tuo massimo bene. Dalla carta dello scopo della vita sta a significare che tu hai delle capacità artistiche, ma l'arte creativa, che vedere anche con, non solo col disegno, con la pittura, col canto, ma la creatività può venire fuori anche una persona che utilizza il computer. Magari stai imparando nuove skills, nuove materie, nuove cose, come ad esempio stai imparando a utilizzare magari un programma sul computer. Diciamo che nuove capacità stanno nascendo dentro di te o hanno voglia di essere richiamate perché magari hai messo da parte le tue passioni per dare priorità alla famiglia piuttosto che al lavoro. E invece diciamo che il tuo lavoro e la tua vita avranno beneficio se tu riuscirai ad esprimere creativamente la tua anima attraverso l'arte. Va bene, quindi assolutamente prendi in considerazione di fare qualcosa di creativo perché questo ti servirà per rinforzare le tue capacità, per rinforzare anche la tua connessione con la tua anima e l'anima che sta chiamando in questa direzione. Bene, passiamo al gruppo B. Quindi un grande coraggio è in te, una grande forza sta nascendo dentro di te. Ascolta questa grinta, ascolta questa forza, questo potere innato che è dentro di te, fallo emergere, agisci nella direzione dei tuoi obiettivi, abbi il coraggio di parlare quando è giusto parlare, di stare in silenzio quando non è necessario parlare ma dire sempre la verità fa parte della tua vena coraggiosa. Ricordati che l'assertività è fondamentale in questa situazione, quindi niente rabbia, niente rancore ma assertività, determinazione, coraggio, azione. Sei potente e coraggioso, puoi farcela, puoi realizzare tutto in questo momento, l'energia è quella giusta, ascolta quella grinta, ascolta quella forza interiore che sta emergendo dentro di te. La tua vita sentimentale, se sei single, stai per incontrare qualcuno di importante, va bene? Qualcuno che potrebbe essere un compagno o una compagna affine alla tua anima, alla tua essenza, al tuo modo di essere, va bene? Diciamo che per quanto riguarda, se hai posto delle domande in questi giorni che riguardano la tua relazione affettiva, che già è esistente, datti il permesso di vivere il romanticismo in questa relazione, cerca di dare fiducia a questo rapporto, in quanto è un rapporto guidato dal cielo, è una relazione d'amore, va bene? Quindi è un amore vero, abbi fede, abbi fiducia, che questa persona ti ama veramente, la persona giusta per te. Abbiamo anche la carta di bambini, ok? Magari in questa situazione sono inclusi, cioè sono, come dire, si parla di bambini, ma per bambini si intende la new generation, una nuova generazione di bambini molto, molto sensitivi, molto sensibili. Potrebbero essere i tuoi piccoli studenti, magari insegni in una scuola, oppure potresti, diciamo, potresti aspettare un bambino, una bambina in arrivo, va bene? Il messaggio dell'Arcangelo Michele è quello di essere onesto e onesta con questi bambini, o con questo bambino, o con questa bambina, in quanto hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di verità, di sincerità, e hanno bisogno di essere ascoltati, quindi se sei una mamma, riguarda anche gli adolescenti, ascolta, sii più presente, cerca di capire che i tempi che stiamo vivendo sono diversi dai tuoi, c'è una grande accelerazione, questi bambini sono molto sensibili, ma sono anche molto forti, molto coraggiosi, molto sensitivi, e non amano le bugie, non amano la falsità, sono molto integri, quindi tu come esempio di amore in terra cerca di essere umile come genitore o come insegnante e cerca di ascoltare il loro punto di vista. Per chi sta aspettando un bambino, una bambina, o sta pregando per l'arrivo di un bambino o di una bambina, questa potrebbe essere l'energia giusta, ok? Andiamo a vedere il gruppo C. è venuto il momento di aprire la tua anima alla grazia, alla bellezza, alla gioia, all'illuminazione, alle frequenze più elevate della luce, ascolta la tua anima, l'invito è alla meditazione, l'invito è alla riconnessione con l'anima, più preghiera, più meditazione, più ritiro spirituale, è azione nella direzione dell'amore, l'invito è esci dall'ego, esci dalla dualità, esci dal giudizio, dalla concorrenza, dalla competizione, dalla rabbia, queste emozioni e queste energie non ti servono, sei portato a lavorare per aiutare l'ambiente, per aiutare la madre terra, questo fa parte dello scopo divino della tua anima, potresti lavorare con gli animali, potresti fare beneficenza per aiutare gli animali, fare beneficenza per aiutare chi si occupa di salvaguardare la terra, la madre terra, l'ambiente, va bene? Questa è una chiamata molto molto forte, l'invito è anche quello di trascorrere più tempo nella natura, sei un'anima che ha bisogno di riconnettersi con la natura, perché questo fa parte dello scopo divino della tua anima, perché hai bisogno di essere più centrato, di innalzarti nell'anima, di connetterti col cuore, di ascoltare chi tu sei veramente, uscire nella natura significa passeggiare attivamente nella natura, significa mettersi a meditare sotto un albero, abbracciare un albero, fare delle preghiere alla madre terra, fare dei rituali di ringraziamento alla terra, la terra ha bisogno di anime disposte a lottare per lei, a lottare per la nuova terra, a lottare per la giustizia, l'integrità e la verità, ok? Ok, bene, anche qui abbiamo la carta del compleanno, qua sta a significare che, diciamo che ha a che vedere con una data particolare, va bene? Una data che è importante per te, è un giorno speciale per te, è una ricorrenza speciale per te, assolutamente questo giorno speciale è un giorno che devi onorare, perché ha a che vedere con la tua elevazione spirituale, ha a che vedere con incontri importanti, ha a che vedere con qualcosa di importante che deve accadere, ok? Però questa carta può stare anche a significare la nascita di un figlio, quindi eventualmente, come il gruppo B, anche il gruppo C, c'è qualcuno che magari sta aspettando un bimbo, una bimba, ha a che vedere con un compleanno importante, quindi potrebbe essere anche il tuo compleanno, il compleanno di un tuo caro, c'è bisogno di festeggiare, c'è bisogno di ringraziare, c'è bisogno di godersi questo giorno speciale, ok? Bene, bene, per questa settimana la nostra lettura si è conclusa, volevo leggere un messaggio dal libro, da questo libro speciale, volevo chiedere all'Arcangelo Michele di suggerirmi il messaggio più giusto per tutte le persone coinvolte, chiedo massima protezione, guida ed assistenza, vedete come va a rinforzare la lettura del gruppo C, da forza alla tua interiorità, ok? Leggiamo questo messaggio, questo è valido per tutti, il tuo futuro e di conseguenza la sua espansione verso gli auspicabili miglioramenti è legato all'evolversi della tua forza interiore, invece di investire sull'immagine esteriore, lavora sull'interiore e nuove occasioni ti porteranno lontano. Bene, sono felice di questa lettura, io non vedo l'ora di sentirvi e di vedervi la settimana prossima, volevo ricordarvi innanzitutto ringraziare le persone che hanno partecipato al percorso dal vivo in diretta sulla manifestazione, la classe nuova per creare, ho creato un percorso di dieci settimane per la manifestazione, dove si farà il processo di manifestazione, si lavorerà su tutte le resistenze, i blocchi che a livello conscio, subconscio e inconscio vi stanno impedendo di raggiungere l'abbondanza di cui siete degni per diritto di nascita, ma andremo a lavorare anche con la meditazione della manifestazione, quindi sarà un lavoro molto molto potente, dieci settimane, una classe di massimo dieci partecipanti, anime infinite, ci sono tre massimo, massimo quattro posti disponibili, ok? Quindi se siete interessati, anche perché il costo di questo corso è al 50%, proprio per iniziare il nuovo anno e per lavorare sulla manifestazione, quindi se siete interessati non esitate a contattarmi. Volevo anche ricordarvi che il nuovo percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà metà febbraio, fatemi vedere un attimino, nella settimana che va da, ve lo dico subito, dal, praticamente, dal 13 al 19 febbraio 2023, quindi c'è da stabilire ancora il giorno, la classe si sta formando, anche questa massimo di dieci partecipanti, per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce, da casa anime meravigliose, nove settimane super intense, dove faremo anche logo sealing, ma imparerete tutto sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, la guarigione a distanza, in presenza, la guarigione col tocco, la guarigione con lo sguardo, la guarigione con la foto, la guarigione di liberazione, ogni sessione verrà trattato un argomento diverso. Se invece tu, anima infinita, vuoi lavorare come one to one, con logo sealing, lo puoi fare, se vuoi ricevere una lettura angelica, con l'utilizzo delle carte, o come connessione diretta, lo puoi fare, e se vuoi ricevere delle guarigioni a distanza, del riequilibrio energetico, inteso come riequilibrio energetico, non fare altro che contattarmi, va bene? Per qualsiasi cosa sono a disposizione, io vi saluto, vi abbraccio, e ci vediamo la settimana prossima. Ciao Anime Infinite!